Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio quest'oggi il Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, che saluto e ringrazio per la presenza. Buonasera. Iniziamo subito a parlare di una delle ultime novità che riguardano la nostra provincia, il Fondo Welfare diventa fondazione. Ci spiega un po' questa novità? È un'iniziativa che è partita proprio con noi nel 2018 e che forse è il primo esempio in Italia che mette insieme un po' il mondo delle istituzioni, il mondo del volontariato, il mondo sindacale, il mondo delle associazioni di categorie, la diocesi, è partito con la finalità di combattere lo spopolamento e di fatto per portare avanti tutta una serie di iniziative che cercano di aiutare le nostre famiglie e quindi soprattutto il mondo del sociale. Diciamo che l'iniziativa iniziale è stata quella di una raccolta fondi proprio per le famiglie in difficoltà sul post-VAIA. Adesso abbiamo cercato di portare avanti questa trasformazione che permette, diciamo così, di creare un ente a sé stante che quindi ha un po' di autonomia gestionale e può, secondo me, operare a sostegno anche delle istituzioni e di tutta la comunità del territorio bellunese. C'è un po' un ordine di grandezza delle persone che servite da questo fondo web per aiutarle? Ma qui è una questione legata a progetti, ne abbiamo fatto diversi progetti, ad esempio aiutiamo le famiglie che hanno bambini agli asili nido, situazioni di difficoltà. È un percorso che va fatto e una progettualità soprattutto anche legata ai finanziamenti che dovevano essere trovati. Qua ci vuole ovviamente un po' l'aiuto di tutti ma da questo punto di vista diciamo che i presupposti sono importanti perché si condividono delle operazioni e anche tutta una serie di progettualità e devo dire che io sono fiducioso che veramente questo ente possa diventare un riferimento per l'intero territorio. Parliamo di grandi eventi e di turismo, Giro d'Italia è alle porte, ci parla un po' degli eventi collaterali e di questo grande appuntamento sportivo. Ma come sapete insomma non è scontato che ogni anno il Giro d'Italia possa passare in provincia di Belluno, è un percorso che anche questo facciamo insieme alla regione del Veneto per cercare di convincere il RCS che noi abbiamo le carte in regola per poter ospitare degli eventi di questa portata. Quest'anno abbiamo due arrivi di tappa addirittura, in Val di Zoldo la tappa del 25 maggio che partirà a Oderzo e quella successiva che da Longarone arriverà a Trecime di Lavaredo. Penso che sono poi le tappe decisive del Giro perché poi la domenica successiva ci sarà la conclusione a Roma. Devo dire che è una grande opportunità, l'abbiamo sempre detto, ha un impegno finanziario consistente. Qui ovviamente noi ci facciamo aiutare dal fondo grandi eventi del fondo dei comuni confinanti insieme alla regione del Veneto e mettiamo insieme questo programma. Sono due tappe che porteranno e catalizzeranno l'attenzione di tutti gli appassionati bellunesi e penso anche non bellunesi. Ci deve essere uno sforzo importante dal punto di vista ricettivo, ma insomma penso che la provincia sia pronta. Questo del resto nel mondo dello sport in Italia eventi di questa portata non ce ne sono perché sono il pari della Nazionale di Calcio che in questa provincia non possiamo ospitare perché non abbiamo una struttura in grado di ospitarlo oppure le gare di Formula 1. Quindi il Giro per noi è sicuramente una grandissima vetrina e cercheremo di sfruttarla anche perché da alcuni anni c'è questa ripresa televisiva di tutta la tappa dalla partenza all'arrivo e questo non può che facilitare anche il lancio del nostro brand nuovo che abbiamo presentato all'abita di Milano Dolomiti Bellunesi che verrà esposto in più parti durante il percorso di tappa. Continuiamo a parlare di questo con un tema però sulle Olimpiadi. Possiamo iniziare un po' a dormire sonni meno tranquilli visto che si avvicina questa data? Io sono abbastanza pessimista purtroppo in questa fase perché devo dire che ormai ci avviciniamo i quattro anni dall'assegnazione delle Olimpiadi e devo dire che siamo in gravissimo ritardo un po' su tutto su quelle che sono le opere infrastrutturali stradali, quelle su Cortina, anche la scelta della pista da Bob ha avuto dei rallentamenti abbastanza importanti, cioè arriveremo a pelo a pelo su tutto e ci poteva essere veramente una programmazione diversa. È vero c'era il Covid, ci sono delle problematiche anche dal punto di vista poi delle autorizzazioni però devo dire che ci troveremo veramente al limite del limite anche con le nostre strade perché le tre varianti di Tai, Valle e San Vito sono state assegnate, appaltate in questi giorni diciamo così, verrà posata la cosiddetta prima pietra ma ci troviamo veramente a pochissimo tempo quindi anche dal punto di vista promozionale non si vede nessun cerchio olimpico in nessuna zona del territorio provinciale quindi devo dire che mi auguro veramente si debba correre tra la Fondazione Milano Cortina che possa coinvolgere maggiormente il territorio io nel mio piccolo come provincia ho coinvolto l'unione delle province d'Italia perché faremo anche dell'iniziativa un po' in tutte le province con la fiaccola con il coinvolgimento anche delle scuole soprattutto quelle alberghiere e stiamo mettendo giù un protocollo d'intesa però devo dire che bisogna secondo me veramente muoverci e il tempo stringe. Ha citato la DMO, quali sono le ultime novità, le ultime attività in questo senso? Ecco anche la DMO come è stato il fondo welfare si è trasformata in fondazione che è lo strumento operativo diciamo così più snello per poter anche gestire delle risorse e metterle a terra sul territorio. Questa trasformazione è avvenuta un mese fa, adesso è stato nominato il nuovo CDA che potrà operare sapete che la DMO vive delle quote dei soci e i soci sono la provincia, la Camera di Commercio, le categorie, 15 comuni che hanno almeno 70 mila visitatori, quindi turisti e per notamenti. Abbiamo poi tutti i consorsi del territorio provinciale e poi qualche realtà come il Parco e la Longarone Fiere. All'interno di questo contesto e questa trasformazione in fondazione oltre alle quote associative vive anche dei fondi di comuni confinanti, noi dobbiamo ora cercare di approvare una scheda a breve che possa permettere di dare alla DMO qui circa 3 milioni di euro che abbiamo deciso di stanziare che possa permettere di fare attività. Attività significa marketing territoriale, lancio del brand Dolomiti Bellunesi come dicevo prima, soprattutto iniziare una campagna digitale per rafforzare quello che è il ruolo della nostra provincia e del nostro territorio all'interno del mondo del turismo, perché ormai la globalizzazione anche di questo settore impone che noi dobbiamo stare al passo con i tempi e quindi da questo punto di vista abbiamo gettato le basi per un grandissimo lavoro che mi auguro rapporterà ulteriori frutti al nostro territorio. Cambiamo argomento, in questi ultimi tempi si fa un gran parlare, c'è una grande discussione in merito alla gestione dei migranti. A Belluno com'è la situazione? Questa non è competenza della provincia, ma ovviamente la provincia ora è la provincia dei sindaci, quindi tutti siamo coinvolti. Il tema migranti è un tema che sembrava essere abbastanza sopito, invece è rientrato prepotentemente all'attenzione degli enti locali, cui ovviamente la prefettura fa riferimento quando arrivano delle persone appunto dai centri di smistamento che ci sono un po' sparsi nel sud del nostro paese. Devo dire che le prospettive sono di arrivi veramente consistenti nei prossimi settimane, nei prossimi mesi e questo ovviamente mette in difficoltà soprattutto i comuni che hanno l'impegno di dare un alloggio anche degli alimenti a queste persone. Ci sono delle convenzioni che adesso mi pare siano un po' meno stringenti rispetto al passato, però voi vi rendete conto che i comuni non hanno la capacità né finanziaria né organizzativa di ospitare persone. Quindi noi ci auguriamo che soprattutto si possano fare avanti delle cooperative sociali che sono appunto adatte a questo. È stato fatto un bando recentemente dalla prefettura al quale per fortuna ha aderito una cooperativa che ora avrà circa una trentina di migranti da gestire. Mi auguro che questi numeri possano aumentare, soprattutto individuando alloggi e modalità di sostegno a queste persone. È un impegno abbastanza gravoso, che ripeto sembrava essersi un po' placato, ma che invece è tornato dirompente. Ora abbiamo veramente diversi incontri che facciamo quasi settimanalmente in prefettura per condividere un percorso che deve ovviamente garantire a queste persone almeno il minimo vitale per poter portare avanti le loro giornate. PNRR, una sigla che un tempo evocava speranza, adesso evoca più dubbi, ritardi, insomma è una musica che si sente anche nella nostra provincia? Ma è purtroppo un po' il tema, il live motive del nostro paese che si fa veramente fatica poi a concretizzare tutto quello che si riesce di idee e di impegni. Ma devo dire che da parte nostra in questo momento siamo in linea con quelle che sono un po' le nostre esigenze e quello che siamo riusciti ad ottenere, noi in particolare per quanto riguarda la provincia che ha come sapete come funzioni fondamentali la viabilità e l'edilizia scolastica degli istituti superiori, quindi diciamo così dalla terza media in su. Quest'anno noi siamo riusciti ad ottenere due importantissimi finanziamenti, quasi il più grande d'Italia, oltre 16 milioni di euro per la demolizione e la realizzazione del nuovo istituto Negrelli di Feltre, poi abbiamo la mensa al Vellai e altri piccoli interventi per i quali diciamo così noi siamo pronti, stiamo seguendo il cronoprogramma, sapete che tutte le opere le PNRR hanno scadenza di rendicontazione, quindi realizzazione di rendicontazione 30 giugno 2026, per quanto riguarda le nostre opere noi siamo diciamo così allineati e pronti a settembre ad approvare il progetto esecutivo e appaltare l'opera che ovviamente poi ha dei tempi di realizzazione che secondo me collimano con quelle che sono le scadenze imposte dall'Europa. Ha parlato di viabilità, allora ritorniamoci, qual è il rapporto, le ultime novità insomma per quanto riguarda la gestione delle strade, in particolare con Veneto Strade, ci spiega un po' anche il tema. Il tema delle strade è un altro tema molto delicato che soprattutto incide in maniera molto forte sul bilancio della provincia di Belluno, la provincia fondamentalmente ha due convenzioni con Veneto Strade, cui deve 15 milioni di euro all'anno per la manutenzione di tutte le strade che sono di interesse regionale e quelle diciamo così provinciali, gran parte delle quali poi ANAS ci diede in gestione nel 2002, poi assegnandoci anche delle risorse per gestirle. Dal 2011 queste risorse, quindi questi di fatto 15 milioni, sono progressivamente scesi a zero ed ora noi dobbiamo con le nostre risorse far fronte a questo impegno, un impegno gravoso che ripeto ingessa il nostro bilancio. Recentemente abbiamo approvato una convenzione con ANAS e Veneto Strade perché nel 2019, quindi stiamo parlando di 4 anni fa, ANAS ha deciso di riprendersi quelle famose strade ex ANAS che per la provincia di Belluno sono circa 160 km che ora tornano in loro gestione. Questo cosa significa? Che dal punto di vista economico finanziario noi veniamo sgravati di questa quota che secondo i nostri calcoli è circa di 4 milioni di Euro all'anno. Quindi noi ci auguriamo, ne abbiamo firmato questa convenzione che però non definisce il quantum economico, siamo in attesa di conoscerlo e a quel punto là noi abbiamo sicuramente un po' di ossigeno in prospettiva futura per il nostro bilancio, anche perché entro il 2024 si dovrà decidere cosa fare. Adesso Veneto Strade è mancato purtroppo l'amministratore delegato Silvano Vernizi, che era una figura di riferimento assoluto dell'azienda, che sapete è partecipata anche dalla provincia di Belluno, oltre che gran parte della regione del Veneto e mi auguro che questa questione si riesca un po' a chiudere e a definire nel giro di poco tempo perché dobbiamo sapere, brutto dire, di che morte morire, ma soprattutto dobbiamo decidere anche quali investimenti fare sulle nostre strade al di là di quelli che dicevo un po' prima, che sono legati alle tre grandi varianti e poi alle due grandi opere olimpiche, che sono la cosiddetta variante di Longarone e la circonvalazione di Cortina, per i quali si sta procedendo anche lì in maniera compatibile purtroppo con i tempi del nostro Paese. Io mi auguro che soprattutto quella di Longarone, che mi pare sia un po' più avanti a livello autorizzativo, entro l'anno possa chiudere tutta la parte burocratica e si possa pensare al 2024, all'appalto e quindi alla posa della prima pietra. Un ultimo pensiero, siamo quasi in chiusura su un tema che verrà sicuramente approfondito ancora quando verrà in qualità di sindaco, su Safilo. Quali sono le ultime? Safilo è una questione estremamente delicata e difficile e anche un po' strana per certi versi perché ci troviamo di fronte ad un'azienda la quale vive una situazione di tranquillità dal punto di vista economico-finanziario, fa un miliardo di fatturato, lo scorso anno ha fatto 100 milioni di utili eppure vuole chiudere lo stabilimento di Longarone. Lì abbiamo costituito un comitato anche di sorveglianza di cui fa parte la Regione del Veneto in primis, il mondo sindacale, le categorie, c'è anche il senatore De Carlo, in modo da condividere insieme quelli che sono i passaggi per i quali ora c'è una trattativa in corso che vede i sindacati impegnati insieme alla Regione e all'azienda per trovare una soluzione. In questo momento la strada che sembra più percorribile per salvare lo stabilimento di Longarone, che è l'obiettivo che hanno tutti, è quello di trovare chi possa acquisire l'azienda. Devo dire che ci sono delle trattative in corso anche concrete, che però non comprendono la totalità di assorbimento di tutta la manodopera. Noi dobbiamo puntare assolutamente affinché tutti i circa 450 ormai dipendenti che sono in Safido possano avere un futuro garantito e da quel punto di vista faremo di tutto per soddisfarli. Siamo in chiusura, grazie ancora Presidente Padrin per il suo tempo, grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Buona serata. Grazie a tutti.